Allora io sostituisco il direttore del consorzio e porto però quella che è la filosofia che ha accompagnato gli interventi ambientali degli ultimi anni del consorzio, che porta con sé una rivoluzione culturale non indifferente per un consorzio di bonifica, come sanno bene i colleghi che lavorano nei consorzi che sono in sala in questo momento. Per inquadrarvi un po' la situazione da un punto di vista geografico, in questa slide vedete in giallo il bacino scolante della laguna di Venezia, quindi tutto il territorio che scola all'interno della laguna e che quindi ne influenza la qualità e in grigio invece il comprensorio di competenza di acque risorgive, che come vedete è quasi totalmente all'interno del comprensorio che scola dentro la laguna. Questo fatto è stato il motore di questa rivoluzione culturale interna al consorzio perché attraverso la regione Veneto che finanziava il piano di risanamento della laguna di Venezia, che tendeva a ridurre i carichi di nutrienti all'interno della laguna, in particolare di azoto e fosforo, ma non solo, ha individuato il consorzio come il soggetto che poteva attuare questi interventi di riqualificazione fluviale. E in questo senso il consorzio ha fatto una scelta di campo fin da subito, decidendo di non affidarsi esclusivamente a competenze esterne, ma di cercare di portare al proprio interno invece queste nuove conoscenze e direi che nel lungo periodo questa scelta ha pagato molto. Vorrei partire a presentarvi i nostri progetti tornando un po' indietro. Questa, come vedete, è una carta redatta tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, una carta austriaca, realizzata col coordinamento di un ufficiale austriaco che è Anton von Zak. Noi la troviamo particolarmente interessante perché in questa carta si vede chiaramente come i corsi d'acqua, non solo i maggiori ma anche i minori, abbiano al loro corredo, mi viene da dire, delle aree più verdi in questo caso, ma che significa prati umidi, boschi, zone allagabili. E quindi come i corsi d'acqua in qualche modo non siano solo ridotti, come attualmente purtroppo è nel nostro territorio, al corso di magra, ma avessero ampie zone allagabili. Dopodiché è una carta che non riguarda solo l'ambiente, insieme possiamo vedere anche la presenza della nostra specie, anche se chiaramente da un punto di vista urbano le cose sono cambiate molto, però già in questa carta per esempio la parte agricola è molto ampia, quindi insomma dà un'idea di come le due cose possano esistere, la convivenza in qualche modo dell'uomo con dei fiumi che però abbiano la libertà di muoversi e di avere anche un ambiente di valore. A questo punto vi faccio vedere alcuni esempi, noi siamo arrivati a questa carta in realtà a posteriori, ci siamo resi conto che molti dei nostri lavori di riqualificazione finivano per ricalcare quella che era la carta di Fonzac, nel senso che molte delle aree che stiamo restituendo ai corsi d'acqua erano già dei corsi d'acqua all'epoca. Questo è l'esempio del comune di Noale, che in questo caso è stato particolarmente fortunato perché ha un'area nord che vedete evidenziata qui, che è un'area umida di fatto di quasi 40 ettari, che è stata prima espropriata e poi riqualificata, è un SIC, quindi è un sito di importanza comunitaria ed è un sito che serve anche per contenerle piene, viene usata in media due volte ogni tre anni per salvare il centro urbano di Noale. Quindi è un buon esempio di come si possano andare a braccetto, qualità della natura molto elevata, protetta a livello europeo, prevenzione del rischio idraulico, biodiversità, fruizione, quindi molti temi. In basso vedete un esempio invece un po' più vicino a quella che la realtà dei consorzi bonifica che parte da questa situazione almeno nel nostro territorio, quindi canali estremamente semplificati da un punto di vista ambientale, con la classica sezione a trapezio. Quello che possiamo fare e quello che si è fatto in questo caso, nel caso del Rio Roviego, è restituire appunto lo spazio verde al corso d'acqua. È chiaro che il corso d'acqua diventa molto più complesso e per un consorzio di bonifica vuol dire acquisire competenze, conoscenze, saperi, anche un po' di coraggio mi viene da dire perché non siamo abituati. È più semplice, è chiaramente più semplice per un consorzio di bonifica gestire il canale che vedete sopra rispetto a sotto, però è anche molto più interessante, è una sfida anche tecnica invece di riuscire a gestire un canale più complesso. Vi faccio vedere altri esempi, in questo caso siamo alla confluenza tra il fiume Marzenego e il Rio Roviego, questa è un'area di 60 ettari, è l'area più grande che abbiamo realizzato in questi anni, come vedete ricalca, lo ripeto involontariamente ma in modo interessante quello che era un'area verde già all'epoca e in questo caso c'è anche una piccola area a nord perché sono vicine, qui non so se si riesce a vedere ma abbiamo riportato l'acqua in questa che era una zona di ex cava che era diventata semplicemente un bosco anche pioniere e quindi non di grande sviluppo. Per queste sono le superfici, insomma, tanto per darvi un'idea. Continuando in questi esempi, ci sono esempi anche molto piccoli, nel nostro caso riuscire a fare questi interventi vuol dire intervenire appunto su realtà anche minute ma in qualche modo con soddisfazione anche in questo senso, non perché siano realtà più piccole, le consideriamo inferiori anche perché la grande quantità dei nostri corsi d'acqua hanno queste dimensioni di fatto. Qui lo vedete evidenziato nella carta, vi faccio un po' una carrellata perché di fatto come vedremo i progetti sono vari, questo è un progetto che presenteremo in termini di monitoraggio anche domani perché ha subito un monitoraggio relativo sia alla fauna che alla flora interessante, questo è chiaramente un esempio, come dire, mi viene da dire di riqualificazione di resistenza perché insomma farlo in mezzo a una rotonda non è l'obiettivo principale di chi fa riqualificazione, però è come dire, l'intento del consorzio è vogliamo prenderci anche questi spazi, non solo questi spazi come purtroppo a volte succede. Ecco, questa è già una carta invece un po' più di insieme, in cui abbiamo messo insieme alcuni dei progetti in siti dove ci siamo resi conto che andavamo a ricalcare quella che era la carta di Fonzac, allora con tutto l'ottomismo del mondo mi sembra difficile riuscire a tornare a Fonzac, però magari qualche passetto alla volta e qualche indicazione possiamo trarla, ieri si diceva anche di come, e se ne accennava anche stamattina, gli interventi spesso siano puntuali, questa carta invita invece a considerare i corsi d'acqua da un punto di vista ambientale per tutto il loro corso. Questo è un esempio di, è un lavoro il nostro, un lavoro che è iniziato ormai da una ventina d'anni e quindi alcuni lavori cominciano in realtà ad esprimere le loro potenzialità solo adesso, questo è un piccolo canale di bonifica che è stato in qualche modo allargato, la parte che vedete boscata sono parti golenali, quindi sono boschi allagabili, mette insieme questo progetto anche le esigenze del consorzio perché c'è comunque un lato lasciato libero per la manutenzione, allo stesso tempo all'interno del bosco la vegetazione è lasciata all'evoluzione spontanea, quindi c'è un mix tra non abbiamo abbandonato il collettore, anzi continuiamo ad applicarci quelle che sono le competenze tradizionali del consorzio di bonifico, ma allo stesso tempo abbiamo degli spazi molto più naturali rispetto a prima. Questo è un esempio analogo, siamo nella zona di Scorzè, quindi nell'entroterra del Veneziano e in questo caso sono stati riqualificati quasi 15 chilometri di affluenti di un fiume d'Ese che è uno dei nostri fiumi principali. Per venire ad oggi vi faccio vedere questo esempio perché questa è una foto appunto fatta quest'estate, è un cantiere aperto, qua si vede benissimo qual era la dimensione del canale prima e si intuisce dietro l'entità dell'allargamento, nei piccoli passi anche di conoscenza tecnica che abbiamo fatto in questi anni c'è ad esempio in questo caso si vede banalmente il preservare una delle sponde del canale dove c'è la fragmites, quindi la canna palustre che poi andrà a colonizzare il resto del bacino, speriamo insieme a molte altre specie. questo è un altro esempio analogo delle stesse aree, giusto per farvi vedere che è un processo in divenire che continua, su cui noi continuiamo a investire e continuiamo ad acquisire anche conoscenze, il fatto di essere qui in realtà è una grandissima occasione di cui ringraziamo il CISF per portare a casa molte conoscenze sul tema. Questa è una slide finale che vi dà un po' l'idea dei progetti realizzati in questi ultimi anni e abbiamo provato a contare anche un po' quello che è stato fatto in questi anni sommando tutti gli interventi e quindi alla fine stiamo superando i 160 ettari di aree umide nuove, abbiamo più di 60 ettari di boschi igrofili, fasce tampone che si avvicinano ai 20 km e estesa di corsi d'acqua che incomincia ad avvicinarsi ai 50 km. Magari possono sembrare non grandissimi numeri, per noi lo sono, soprattutto perché come ripeto è un processo che è un treno in corsa e cerchiamo di tenerlo, di tenerla locomotiva accesa, mi viene da dire. Vi ringrazio. Resta, resta. Abbiamo spazio per due o tre domande, se ci sono dal pubblico. Buongiorno, volevo sapere se le aree erano state comprate o cedute o in quale maniera avete acquisito le aree che avete riqualificato? Sì, assolutamente espropriate. Mi viene da dire, lo dico con questa enfasi non perché abbia mire latifondistiche, ma perché mi sembra che se il motto è restituiamo spazio all'acqua, la riqualificazione non possa che passare dal restituire veramente lo spazio all'acqua. E quindi in questo senso è chiaro che questo processo, adesso la sto un po' mettendo in forma così ironica, però anche in questo campo c'è stata una crescita culturale, nel senso che alla fine c'è una sorta di concordato con i proprietari, il progetto in alcuni casi veramente si costruisce insieme. Ci sono proprietari che per varie ragioni hanno piacere in qualche modo di poter vendere alcuni territori perché non li utilizzano più. Altri sono più in difficoltà, è chiaro che si cerca di mediare su questo terreno, da questo punto di vista e questo aiuta molto anche nel momento in cui poi realizzi l'opera in termini di condivisione degli interventi. C'era un'altra domanda, mi sono la stessa, rispondo di nuovo. Bruna Gumiero. Magari presentatevi così iniziamo a conoscerci. Aspetta Bruna. Buongiorno Bruna Gumiero, Università di Bologna. Visto che avete iniziato nel 99, quindi insomma un po' di tempo è passato, volevo sapere la percezione delle persone. Avete visto che è cambiata vedendo anche gli esempi concreti e questo incomincia a aiutarvi, cioè incomincia a non essere dalla vostra parte o è ancora un processo che ha bisogno di tempi più lunghi? Allora, sicuramente l'inizio è stato molto difficile da questo punto di vista perché non si capiva dove si stesse andando come consorzio, tanto più che ovviamente i consorziati in qualche modo sono poi le persone che versano la quota per realizzare questi lavori, quindi si sentivano ancora più esclusi in qualche modo, non comprendendo fino in fondo dove si stesse andando. Allora, esternamente una cosa che ha contribuito molto è l'aspetto, prima di tutto l'aspetto idraulico, più che l'aspetto ambientale inizialmente, per cui nel momento in cui si sono allargati i corsi d'acqua, a prescindere dal fatto che poi avessimo impiantato boschi e ci fossero canneti, ma con la stessa pioggia, prima vedevo l'acqua a raso se non addirittura in garage, adesso non la vedo più, forse il consorzio ha fatto un buon lavoro. Dopodiché arriva anche l'aspetto ambientale, quello come avete visto alle immagini, ci vuole un po' più di tempo semplicemente perché le piante hanno bisogno di più tempo per crescere, ma è diventato man mano, lo vediamo dalla richiesta di fruizione che c'è, prima a nessuno interessava andare a passeggio lungo i nostri canali, adesso le richieste sono molte e si fa fatica perché a volte sono terreni privati. Questa cosa è successa anche internamente, per un consorzio, anche il personale stesso del consorzio che è stato abituato per anni a fare in un certo modo, chiaramente perde un po' l'orientamento di fronte a un cambiamento così radicale e ci sono delle resistenze indubbie anche all'interno che anche in questo caso, adesso francamente alcune rimangono, non è possiamo piacere a tutti con questo approccio, ma altre invece si vede ed è un piacere vederlo come gli stessi dipendenti del consorzio che magari si occupano della manutenzione piuttosto che di un certo tipo di progettazione, sono entrati in un ordine di idee diverso e sono diventati parte e non più semplici attori. Grazie Paolo